Ciao a tutti gli ascoltatori, siamo finalmente pronti e in diretta per questa 84esima puntata della scuola calcio a misura di bambino, scherzandoci avviciniamo le 100 puntate. Devo dire che di questa 84esima puntata sono molto orgoglioso, sono molto orgoglioso perché è un ospite che ho piacere di ascoltare questa sera per i suoi contenuti e per la sua disponibilità che è stata proverbiale, sta qui con noi questa sera, lo presento subito così non ci vediamo che è con noi questa sera il mister Filippo Galli. Ciao mister, buonasera, buonasera. Ciao Gianluca, ciao, buonasera, buonasera a tutti coloro che sono in ascolto, grazie per l'invito per essere qui con voi appunto questo venerdì sera. Venerdì, è vero? Sì, è venerdì. Venerdì, sì, sì. Ripeto in pubblico quello che ho detto prima, ringraziandoli per la tua disponibilità e il piacere che ci dai a stare qui con noi in questo laboratorio di idee, perché mi piace chiamarlo così, insomma, e come ti dicevo fuori, non in diretta, ogni sera diventa una piccola occasione di aggiornamento con voi che partecipate e ci date informazioni di diverso del genere. Non siamo accademici, non vogliamo esserlo, ma vogliamo farci una bella chiacchierata per confrontarci sui contenuti. Come ti ho detto Gianluca, è un momento di aggiornamento anche per me, perché poi quando ci si confronta, si parla appunto non in maniera così unilaterale, dove c'è uno che parla che si devono ascoltare. Ci si confronta e quindi sì, si prova a crescere e a prendere qualcosa o comunque far venire qualche pensiero, qualche dubbio per approfondire. Certo, e siccome io sono troppo buono a volte, allora mi sono portato un battitore libero. Abbiamo inaugurato due settimane fa la figura del battitore libero, questa sera sarà interpretata Simone Tofa, un tecnico UEFA B, anche lui con eccellenti esperienze nel settore giovanile, soprattutto nell'attività di base. Sta con noi, nel momento in cui avrà voglia di intervenire e stuzzicarti e stimolarti in qualche curiosità, sarà pronto a farlo. Logicamente ci saranno le persone che ci guardano e potranno fare le domande e io te le girerò direttamente a te nella seconda parte della trasmissione. Adesso faremo una piccola, ma piccolissima sigla che dura un minuto, neanche di più, e poi saremo a tutti gli effetti in diretta e partiremo con la nostra trasmissione. Quindi via la piccola sigla e fra un minuto saremo tutti quanti insieme. La vita è una partita, bisogna fare gol. Io ho messo qualche palle in rete, che abbia vinto o no. Forse ho perso dei treni, ma ho fatto ciò che voglio, per questo oggi entro in campo pieno d'orgoglio. E ne ho fatta strada, da quando stavo tutto il giorno in strada, con mia mamma si litigavo, usavo quella casa. Oggi che vivo solo con tutti i difetti miei, capisco che in effetti c'aveva ragione lei. Conosso gente ricca, che sogna una famiglia, ma resta sola fino al giorno in cui si picca. Mio fratello a modo sola, partita l'ha vinta, tira la cinga, ma quando torna a casa riabbraccia sua figlia. Non pensare a loro, tu vivi, anche se i potenti fanno squadra con i cattivi. Ancora non ti hanno battuto, niente è perduto, quindi credici fino all'ultimo minuto. E come tutti i venerdì sera andiamo con le grida dei bambini, no? Che sono quelli che ci danno poi la soddisfazione più grande e il desiderio di stare in campo ogni giorno. Allora, mister, io, anche se non ne ha bisogno, voglio un attimo presentarvi. Filippo Galli, intanto è uno dei giocatori, anche se è la sua modestia, ogni volta lo nasconde, però è uno dei giocatori che ha vinto più di tutti, almeno in Italia, almeno nei club, perché io mi sono insegnato qua cinque scudetti, quattro supercoppe, tre Champions League, tre supercoppe europee, due coppe intercontinentali. Mister, so che tu quasi arrossisci in questo, però... Sì, no, come si dice, quando ti scegli bene i compagni, ti viaggo, quindi ti devi viaggiare. Hai fatto quell'esperienza con il Milan di Sacchi, insomma, che avete rivoluzionato il calcio, si può dire, no? Dunque, voglio dire, eravate sicuramente la squadra più forte al mondo in quel momento, insomma. Beh, credo che si possa dire, almeno in Italia, che ci sia un calcio, nella storia del calcio italiano, un calcio prima di Sacchi e un calcio dopo Sacchi. Credo che questo si possa dire, ma senza enfasi, proprio perché Sacchi portò, insomma, una sorta di rivoluzione, no? Anche sia nella metodologia di lavoro e come si affrontavano le partite, gli avversari, si è cercato di giocare andando a comandare il gioco. Poi magari vedremo anche come rispetto ad altre modalità di gioco proposte successivamente o anche prima. E questo credo che abbia portato poi, ovviamente, con un allenatore così innovativo, con un gruppo di giocatori straordinario, con una cultura del lavoro straordinaria e con una società che ha investito forte e poi coi tifosi, insomma, come si dice sempre, devono essere tutti questi elementi a funzionare per portarti poi a, non solo a vincere, ma a continuare, a dare continuità alle vittorie e alle performance. E a stravincere come avete stravinto voi per un bel periodo della stagione, insomma. Però, siccome il tuo esordio è il 18 settembre dell'83, un Milan-Verona 4-2, siccome noi siamo grandicelli, ma tra quelli che ci ascoltano ci sono anche dei ragazzi giovani che non hanno probabilmente avuto la fortuna di vederti in campo, io ho preparato un piccolo regalo per te, veramente di 30 secondi, ma molto piccolo, con il quale vorrei aprire questo nostro incontro e poi andremo a parlare in maniera particolare l'approccio sistemico e tutto quello che ne consegui. 30 secondi soltanto. Ho visto un posto che mi piace e si chiama mondo, ci cammino, lo respiro, la mia vita è sempre intorno, più la guardo, più la... Questa è una piccolissima cosa, però è un piccolo regalo. Grazie, grazie, hai fatto molto piacere, mi piace perché poi quando io ho fatto nel Milan ho fatto tre gol, però siccome li riprendono, le simulazioni sembra che ne abbia tutti molti di più, quindi va bene. Beh, già non sono bravo come speaker, come montatore dei filmati, è ancora peggio, non so quello che è uscito fuori, ecco. Però ho preso questo spunto perché ti volevo fare una... Visto che noi ci rivolgiamo ai bambini e i bambini vivono di sogni, il loro motore sono i sogni e quindi una domanda te la volevo fare in ambito calcistico. Sì. Mi devi raccontare quel 18 settembre dell'83, quando sei entrato a San Siro per la prima volta, le emozioni e quello che hai sentito a livello emotivo. Insomma, andare indietro di così tanto tempo non è... Però no, è chiaro che... Ma quello è un giorno particolare. Gianluca, io adesso, al di là di chi ci sta ad ascoltare, probabilmente ad altri colori, no, per cui tifa, però io sono... Ma qui i colori non contano nulla, dai. No, infatti io sono stato milanista e sono milanista da quando avevo cinque anni, quindi puoi immaginare che cosa ha voluto dire, esordire in quella squadra. Avevo ormai vent'anni dopo aver fatto un'esperienza fuori, avevo fatto il settore giovanile, tra l'altro arrivando molto tardi, perché io giocai... ho giocato in prima categoria, a 15 anni, con la firma dei genitori, perché allora non era possibile. Sono arrivato al Milan, nel settore giovanile, anche piuttosto tardi rispetto ad altri miei colleghi, tipo Evani, ad esempio, no, che arrivò già a 14, quando le regole lo permettevano. Insomma, avevano fatto tutta una certa tipo di trafila. Quindi arrivare lì e giocare a San Siro veramente tremavano le gambe. Poi io, dalla mia, ho sempre avuto questa capacità di essere concentrato sul compito e quindi, insomma, poi alla fine sono riuscito a calarmi nella partita e l'esordio è stato bellissimo. Poi abbiamo vinto, va bene così. E certo. Chi pagò la gara? L'anno prima aveva vinto lo Scudetto del Verona? O quell'anno là era? Chi se lo ricorda? Eh, no, 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 no. In Verona poi in quegli anni c'erano squadra, c'era... Eh, grandi giocatori. C'era, c'era, avevano Briegel, forse negli anni successivi, forse... No, il Mondiale era l'82, quindi da lì cominciarono ad arrivare gli stranieri di qualità. Sì, sì, era ovunque, era l'82 o l'83 hanno vinto lo Scudetto. L'anno era l'83, l'84, sì, probabilmente hanno vinto loro. Perdonami, ma... No, no, perdonami tu, perché... me lo sarei dovuto sognare, adesso era un flash che ho avuto... Vabbè, non è passato, ma guardiamo... Senti, io chiamo i rinforzi e andiamo a discutere dell'argomento che ci attrae tantissimo. Perciò chiamo Simone Tofa, che come dicevo sarà con noi questa sera per stuzzicare la discussione e per arricchire, appunto, gli argomenti. Simone Tofa lo conoscono in molti, è un esperto di calcio giovanile, in particolare l'attività di base. Dunque, è interessato come me a quello che ci dirà il mister Filippo Galli. Allora, mister, partiamo subito dall'approccio sistemico. Che cosa intendiamo quando parliamo di approccio sistemico? Allora, cosa intendiamo? Beh, è difficile così spiegarlo in poche parole, ci provo. Allora, a me piace sempre quando faccio dei webinar così, mostrare un filmato in cui c'è Edgar Morin, che è un sociologo, filosofo francese, che ormai ha forse sicuramente più di 90 anni, no? Che però io ho scoperto qualche anno fa, quando ancora ero responsabile del settore giovanile. E questo filosofo cosa dice? Dice che praticamente tutto quello che è il nostro sapere, quelle che sono le nostre conoscenze, ci derivano da ciò che noi abbiamo studiato, no? Nelle scuole, che possono essere scuole superiori, oppure all'università. Tutte queste conoscenze che noi abbiamo ci derivano appunto da una scuola che poi tende però generalmente a tenere tutto molto separato. Quindi dalle università escono gli specializzati in scienze motorie, qualcuno magari nelle neuroscienze, c'è chi esce specializzato in pedagogia, chi in psicologia, no? E il problema è che poi quando tutte queste professionalità e queste conoscenze si ritrovano in un contesto lavorativo, nella vita di tutti i giorni, difficilmente parlano tra di loro, no? E lui dice, ed è sbagliato perché ciò che ci viene insegnato nella scuola è diverso da ciò che avviene nella vita di tutti i giorni. Perché assolutamente noi siamo come persone un sistema complesso, perché tutto ciò che noi facciamo non dipende soltanto da un gesto meccanico, ma c'è tutta una serie di componenti che fanno sì che noi si determini o si faccia qualcosa. Quindi c'è tutto un aspetto emotivo, c'è un aspetto cognitivo, c'è appunto un aspetto motorio, ma c'è anche tutto questo. E allora io perché porto sempre Morenne come esempio? Perché di fatto è un po' mi ha aperto gli occhi rispetto a quello che noi stavamo facendo inconsciamente e abbiamo fatto nel settore giovanile, nella mia esperienza al Milan. Cioè quello che abbiamo fatto è stato creare una metodologia di lavoro proprio basata sulla comunicazione, sull'idea che tutte le professionalità dovessero partecipare a creare questo, chiamiamolo così, approccio metodologico. Perché appunto quando una persona agisce, quando fa qualcosa, e lo fa ovviamente in questo caso in campo, non è mai un qualcosa che è legato soltanto a un aspetto tecnico, cioè uno dice io vado a calciare la palla e una volta che sono bravo dal punto di vista tecnico a calciare la palla, ho terminato il mio compito, sono bravo. No, ci sono tutta una serie di componenti che fanno sì che un gesto tecnico poi abbia una valenza piuttosto che un'altra, che le relazioni all'interno di un campo abbiano una valenza piuttosto che un'altra e via discorrendo. Quindi è impensabile di considerare un giocatore all'interno di un allenamento piuttosto che di una partita come un qualcosa lì a sé stante, ma dobbiamo invece considerarlo appunto come un sistema complesso all'interno di una complessità che è quella del gioco. Faccio sempre anche un po' questo esempio, uno dice il calcio è semplice, io non so se il calcio sia così semplice, sicuramente non dobbiamo renderlo complicato, ma non è semplice, io dico che è complesso. L'esempio qual è? Che quando io vado a calciare una palla da fermo, faccio un esempio molto semplice, una punizione ad esempio, ok, devo, come posso dire, raccogliere tutta una serie di informazioni, ma ad esempio quanto è lontana la barriera, quanto è lontano il portiere, e nel momento in cui ho deciso di andare a calciare vado a calciare, nel momento in cui io vado a calciare vado a richiamare per calciare tutta una serie di muscoli, ha delle tensioni, ha dei richiami che hanno tutta una serie di variabili. Ecco, questo è soltanto un calcio da fermo. Allora voi potete immaginare mettere questo calcio, questo gesto tecnico in un contesto dinamico come è la partita, e quindi nella partita cosa abbiamo in più? Abbiamo i nostri compagni che magari ci chiamano la palla, abbiamo gli avversari che cercano di prenderci la palla, abbiamo il terreno che magari è sconnesso, abbiamo le condizioni atmosferiche che condizionano, abbiamo i genitori nostri che ci dicono magari cosa dobbiamo fare, abbiamo i genitori avversari che se va bene ci dicono qualche parolina, se non siamo quando siamo in uno stadio e magari le pavoline sono ancora un po' più grossi, insomma c'è tutta una serie di componenti, quindi non solo atletico-motori, non solo tecniche, non solo tattiche ma anche emotive e cognitive che vanno ad incidere su quello che è la nostra attività. Ecco, io in questo senso dobbiamo pensare in maniera sistemica, e non possiamo pensare di dividere le cose e di separato. Io spero di essere stato sufficientemente chiaro, però magari nel corso della serata spero di essere più chiaro. Penso che il primo approccio, la prima frenatura è stata molto chiara. A me parte subito una curiosità, questo tipo, la complessità dal quale poi scaturisce il gioco, in definitiva, è una complessità che dobbiamo creare noi adulti che siamo con i ragazzi e dunque modellarla rispetto al livello dei ragazzi, a quanto sono pronti i ragazzi. È una complessità che si crea da solo la strada facendo. Io dico che la complessità è già nel gioco. Noi spesso diciamo che quello che manca ai nostri ragazzi di oggi, ai nostri bambini, è il gioco di strada, è l'impossibilità di avere spazi in cui giocare. Una volta noi invece avevamo questi spazi, ma potevamo giocare a calcio, ma potevamo soprattutto autodeterminarci. Quindi spesso si facevano le squadre tra di noi, si facevano anche le regole, oggi tutto questo manca, anzi hai l'allenatore che ti dice cosa devi fare, ti inquadra, ti mette in determinati spazi ben definiti. E quindi se noi facciamo giocare i nostri bambini in una partitella, che può essere, dipende dal numero che abbiamo, 5 contro 5, 4 contro 4, arrivano al campo in 6, facciamo un 3 contro 3, già quello, farli giocare vuol dire tenerli nella complessità. Potremmo provare a fare una definizione? Che l'approccio sistemico potrebbe essere il moderno gioco di strada? Ci potrebbe stare come definizione? Sì, sì, ci sta, nel senso che, ripeto, nella strada c'era tutto, ma c'era, come posso dire, la risoluzione, la risoluzione del problema non te la dava nessuno, la dovevi trovare tu, così come, come posso dire, c'era la creatività, tu ti trovai di fronte un compagno o c'è un avversario e dovevi decidere, poi dovevi decidere cosa fare, così come nel calcio alla fine, no? Cosa fai? Provi a superarlo da solo e avvalerti del, del tuo, del tuo compagno. Queste sono decisioni, sono scelte e la scelta è come ha detto, tra l'altro, De Zerbi, nel webinar del primo, del primo lockdown, se tu non alleni, il bambino, il giocatore, alla scelta, non lo stai allenando. E io dico che il bambino lo puoi allenare alla scelta già quando è piccolo, ha 6, 7 anni, 5. Noi abbiamo in testa questa idea, no? Che il bambino sia nella sua fase egoistica quando ha 5, ha 6 anni e quindi ha solo, vede solo il sé e vede la palla. Bene, possiamo anche dire che sia così, ci sono degli studi che dicono che è così, ma non per questo noi dobbiamo andare a stressare ulteriormente questa cosa. Perché poi non dimentichiamoci che quando la creatività non è solo andare a fare l'uno contro uno, perché noi a volte pensiamo questo, ma io quando, noi quando giocavamo per strada o nei cortili, quante volte per saltare l'avversario giocavamo a muro? Cioè, a muro era il compagno, no? Non c'ho il compagno, c'ho il muro, gioco col muro e vado via nell'uno-due. Certo, se sceglievamo poi la soluzione che ci riusciva meglio, partiamo dal nostro modo di essere. Questa scelta è quella che determina poi la capacità di apprendimento del giocatore. Se io lo alleno in questa possibilità di scelta è fondamentale. Secondo me è una questione di età, certo, è una questione di tempo, perché poi molti dicono ma tu hai fatto il responsabile di settore giovanile al Milan dove c'era una selezione, dove c'erano i più bravi. Io vi dico che prima di lavorare in questo modo nel settore giovanile del Milan lo abbiamo fatto con le nostre scuole calcio, abbiamo implementato questa modalità di lavoro con le nostre scuole calcio. I risultati maggiori non li abbiamo avuti dove c'erano i campi in erba piuttosto che in sintetico, dove c'erano delle strutture megagalattiche, non li abbiamo avuti dove le persone hanno deciso di sposare questo cambiamento, questa idea di approcciare al gioco e all'attività e l'attività di calcistica dei giovani in maniera diversa. Quindi ovviamente abbandonando, guardo che erano certe consuetudini e certe conoscenze che erano considerate per acquisite e quindi come sappiamo l'uomo quando lo porti vicino al cambiamento si prende paura e ognuno poi è una reazione differente dall'altro. Certo. Simo, so che hai una curiosità da sciogliere. Simone, mi senti? È prison. Pensa che si è bloccato così. È bloccato, accidente. Abbiamo fatto le prove prima. Abbiamo fatto le prove per un'ora e mezza per poi averlo bloccato. No, stiamo ragionando oggi insieme a lui. Ecco, vediamo se c'è perché vorrei che te la... Simone, ci sei? Niente, ma non ce la fa con la linea. No, io pensavo una cosa. Non partire e non approcciarsi in maniera sistemica nel gioco dei bambini, dei giovani. Potrebbe essere una limitazione anche nel fare uscire fuori il genio, il talento del ragazzo perché se il nostro approccio diventa troppo nozionistico come in più delle volte accade rischiamo di cancellare quello che è naturale del ragazzo che a volte nel naturale c'è nascosto il talento poi c'è la gestualità straordinaria per così dire. Invece in questo modo il nostro ragazzo il nostro bambino nel gioco ripeto è chiaro che ci sarà chi avrà più difficoltà ma chi avrà più difficoltà chi non è selezionato chi è la seconda scelta piuttosto che la terza o la quarta probabilmente avrà bisogno di più tempo per riuscire a risolvere determinate situazioni di gioco ma non è detto che non arrivi a risolvere anche lui le situazioni di gioco dopo un certo periodo di tempo così come le risolve magari al primo tentativo colui che è considerato un talento abbiamo bisogno di dargli tempo allora dobbiamo farci una domanda a noi allenatori siamo noi allenatori che non abbiamo tempo o sono i nostri ragazzi che non hanno tempo e allora forse la risposta dobbiamo avere il coraggio di darcela quindi dobbiamo dare loro tempo dobbiamo loro mettere nelle condizioni se hanno delle difficoltà di aiutarli per cui è chiaro che se io ho dei bambini che hanno maggiore difficoltà cercherò in qualche modo di andare a come potete dire di sculturare una situazione di gioco anziché metterli 5 contro 5 magari metterò un jolly metterò una superiorità numerica in modo tale che il bambino ha più tempo per decidere che cosa fare ha più tempo per pensare al gesto tecnico che deve fare e allora lo aiuto in quella direzione io questo voglio dire siccome a me non piace fare il come posso dire mettere sempre in contrasto o in contrapposizione il situazionale l'analitico il giochista il risultatista io sono per avvicinare è chiaro che parto da un'idea sistemica da un'idea di complessità e quindi per me dobbiamo mettere i nostri bambini e tenere i nostri bambini nella complessità del gioco se hanno delle difficoltà allora vado a distrutturare ma prima di arrivare all'analitico ok quindi prima di mettere il bambino con una palla da solo a calciare andare a fare il muro come si dice io ci devo ho tutto come dico sempre ho tutto un mondo da esplorare o meglio da far esplorare al bambino prima di arrivare lì e spesso quando io arrivo ad una situazione di analitica molto spesso è per una situazione di come posso dire di aiuto al bambino nel senso più che altro di sensibilità di proprio accettività e di presa di coscienza rispetto alla sensazione di avere il pallone tra i piedi ma è più un aspetto emotivo che non un aspetto di apprendimento perché ormai ce lo dicono un po' tutti gli studi è vero che poi diciamo ogni bambino apprende a suo modo e per carità è vero però poi ormai gli studi ci dicono che non è che se io imparo a calciare la palla in un certo modo poi una volta che metto il bambino in una situazione di gioco c'è un transfer di quello di ciò che io ho imparato perché si attivano tutta una serie di neuroni diversi ci sono tutta una serie di se la guardiamo soltanto dal punto di vista delle neuroscienze ma poi anche dal punto di vista come posso dire più psicopedagogico più di psicologia sociologica come si dice adesso io non voglio usare dei termini perché io non sono un tuttologo studio cerco di leggere e vivo di esperienze è importante sono importanti le relazioni sono importanti ma le relazioni di gioco io non intendo le relazioni il fatto di essere amico con un altro certo quelle sono altrettanto importanti ma sono un'altra cosa e poi magari se vogliamo ne parliamo però io devo tenere il bambino la complessità non si spiega la complessità non si dobbiamo vivere la complessità per cercare in qualche modo di tradurla in qualcosa che sia che sia che sia d'aiuto al nostro bambino al nostro ragazzo al nostro giocatore alla nostra giocatrice perché poi non dimentichiamoci che oggi il calcio femminile sta prendendo sempre più piede e non dobbiamo dimenticarci di questo perciò la complessità per come appunto ce la stai spiegando tu probabilmente prevede dei livelli di complessità diversi rispetto al livello del ragazzino nel senso che comunque dobbiamo essere pronti noi a facilitargli l'esperienza della complessità del gioco sì ecco però quello che non voglio che passi o se mi hai spiegato male non voglio che si si impoverisca cioè noi dobbiamo nel gioco ci sono diciamo gli elementi anche quelli che poi nei corsi della federazione ti dicono quali sono gli elementi che poi permettono al gioco di essere vicino alla realtà ovviamente la palla poi ci sono i compagni gli avversari e lo spazio con la direzionalità no? quindi le porte con la direzionalità e non è non dico che non si possa togliere le porte che non si possa togliere scopo mi devo fare delle domande perché spesso succede che ok il metodo migliore si dice è il gag globale analitico globale ma perché cioè non necessariamente non dico che sia sbagliato ma io devo perché devo essere globale analitico è come se fosse una ricetta no? e invece io devo essere in grado di osservare di capire di comprendere i miei ragazzi cosa hanno bisogno e devo dare loro tempo devo avere pazienza e certo se poi torniamo lì che io devo vincere oppure devo oppure devo avere l'esercitazione tutta fatta per bene perché se no il genitore fuori mi dice ma che casino sta succedendo lì in campo pensando che se c'è ordine se c'è uniformità vuol dire che le cose stanno andando bene e i bambini diventano bravi è esattamente l'opposto e generalmente quando c'è la difficoltà quando ci sono gli errori quando c'è il caos quando c'è la la complessità che si che si che si i bambini imparano e per carità ho parlato di genitori ma per me i genitori sono devono essere dentro nel processo formativo dei loro figli ecco non pensate non pensate che io noi nel percorso che abbiamo fatto al Milano i genitori facevamo dei momenti di formazione ma non dei momenti di incontri per dire ok i nostri ragazzi devono devono andare a scuola devono studiare perché devono sapere tenere insieme l'aspetto calcistico e l'aspetto scolastico no quello che noi spiegavamo era perché volevamo che i loro figli i loro ragazzi le squadre in cui giocavano i loro ragazzi giocassero in un certo modo e abbiamo spiegato il perché perché poi se tu dai degli strumenti ai genitori qualche genitore se non tutti poi comprendono sono in grado di capire e quindi diventano una risorsa è chiaro che poi chi non ha la voglia o vuole comunque essere contro e pensa di avere il figlio che è il fenomeno di turno non ti darà mai una mano e purtroppo non darà mai una mano anche il proprio figlio però io credo invece i genitori vadano tenuti dentro vadano assolutamente tenuti dentro e noi ci siamo accorti proprio proprio nel nostro percorso e scusate se poi mi taccio no quando parlo di io di noi ecco nel mio percorso per me sono stati fondamentali delle persone che ho incontrato tra cui Edgardo Zanoli che è stato il nostro metodologo al settore giovanile del Milan la dottoressa Gozzoli dell'alta scuola di psicologia dell'università cattolica di Milano e il professor Domenico Gualtieri prima ancora Stefano Baldini che oggi non stava di Brocchi del Monza Valdo Dolcetti insomma c'è stata tutta una serie di figure Fiorin una serie di figure che sicuramente mi hanno dato e da cui che mi hanno aiutato un po' ad affrancarmi come tu dicevi che avevi sentito dirmi questa frase dall'essere stato dal mio essere stato giocatore e quindi di vedere le cose forse con un paradigma diverso da un punto di vista diverso ottimo Simone dice ci sei adesso Simone sì 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 ci sono no no ti stavo ascoltando ma ho un problema in linea qui purtroppo io vabbè innanzitutto faccio i complimenti al mister Filippo perché comunque vi vedo la sua disponibilità è sempre un valore per noi che lo ascoltiamo allora io Gianluca se mi permetti volevo visto che stiamo parlando della complessità fare tre punti diciamo secondo me importanti riguardo poi quello che riguarda l'ambito nostro quello della formazione quella di istruzione quella della dell'aspetto formativo l'ambiente l'istruttore e e poi il fatto di non tralasciare sempre l'aspetto diciamo della riguardo i bambini la creatività cioè come noi possiamo interagire visto che ci occupiamo di anche di diciamo di avere rapporti con le persone noi come adulti interagiamo con i bambini questi tre ambiti cioè l'ambito dell'ambiente quindi come l'ambiente questo contesto legato alla complessità come l'istruttore perché per me è fondamentale avere un istruttore io ultimamente cito anche delle cose riguardo l'istruttore che secondo me un istruttore deve essere un istruttore intuitivo dal punto di vista della sua capacità di trasmettere e poi il fatto di come il bambino possa esprimere sempre e comunque la sua creatività questi sono tre punti su cui mi piacerebbe discutere con Filippo allora è parlato di formazione noi io ripeto con i miei collaboratori abbiamo sempre pensato che la formazione fosse troppo importante e come abbiamo fatto in che senso formazione perché poi la formazione può essere fatta in diverse modalità c'è quella quella più più parli di istruttore ecco è un termine che a me non piace a volte preferisco allenatore cioè per me l'allenatore è un allenatore anche con i bambini di sei anni perché a me istruzione scusami e so che non è la tua accezione però a me istruzione poi fa venire in mente l'istruttore fa venire in mente l'istruzione come se io ti dessi un foglio in cui c'è scritto esattamente quello che tu devi fare e tu esegui senza capire so che non è la tua la tua accezione che dai di istruttore proprio per questo è un istruttore qualcosa che preferisco non sentire così rivolto ad un allenatore dicevo l'istruzione l'istruzione la formazione è importante c'è una modalità vicino a quella militare di dare l'istruzione dare il fogliettino tu fai ed io eseguo c'è quella più legata più simile all'insegnamento dove c'è chi ha il sapere chi parla e quindi cerca di dare il più possibile conoscenza a chi sta ascoltando e quindi spetta soltanto a chi sta ascoltando cercare di mettere dentro qualcosa in questo contenitore che viene considerato il discente il docente parla il discente ascolta e cerca di buttare dentro quello che riesce secondo me secondo noi la formazione vera si fa quando c'è un dialogo e quindi in modalità dialogica in modalità davvero di continuo continuo confronto e naturalmente l'ambiente è fondamentale perché poi l'ambiente cosa sono non sono altro che le relazioni che si creano che si creano tra le persone l'ambiente il contesto è creato dalle relazioni tra le persone che si creano ecco perché secondo me quando diciamo al centro del progetto c'è il bambino no al centro del progetto c'è il bambino certamente ma ci sono anche tutte le figure adulte con le loro relazioni noi non possiamo pensare di stare al di fuori quindi le figure adulte intendo beh al Milan avevamo la fortuna di avere gli allenatori gli allenatori in seconda il preparatore atletico magari il video analista lo psicologo i genitori cioè tutte queste persone qui devono stare lì al centro ovviamente ognuno rispettando il ruolo dell'altro però è proprio questo che la formazione la si fa in questo modo si cresce magari io stasera dico un'idea qualcuno di voi butto lì un'idea qualcuno di voi mi risponde in un modo diverso in contrasto e mi fa pensare e da questa da questa conflittualità chiamiamola così nasce qualcosa di diverso e su cui io penso e magari vengo fuori con una conoscenza differente o almeno con un dubbio quello che dicevo prima questo è un modo di fare formazione e noi andando a creare quel progetto quell'approccio metodologico che dicevo abbiamo esattamente fatto così adesso non mi voglio dilungare se mi date tempo cerco di spiegarci noi siamo andati a un certo punto quando la società aveva cambiato un po' quello che era la progettazione quello che era l'idea di investire anche nella prima squadra erano stati ceduti vi ricordate Ibraimici e Tiago Silva quindi non più investimenti cercare di lavorare con i giocatori che avevamo nella rosa della prima squadra e allo stesso tempo ovviamente neanche nel settore giovanile i settori giovanili a un certo punto ci hanno detto i ragazzi fino ai 14 anni ci saranno delle entrate dopodiché dovremmo portare tutte le tutte le squadre dai 14 anni fino alla primavera e magari speriamo la prima squadra senza andare a inserire nuovi giocatori e questo ci ha portato sicuramente a lavorare con grande attenzione dal punto di vista metodologico quello che io chiesi la proprietà che diceva ok non possiamo più investire quello che chiesi fu un investimento rispetto a andare a conoscere come lavoravano le maggiori concorrenti in Europa tra cui ovviamente il Barcellona l'Ajax l'Anderlecht ma tutte quante siamo andati un po' a conoscere il Manchester United il Bayern chi più ne ha più ne metta e quando siamo tornati abbiamo presentato un librone alto così di come dovevano essere i nostri giocatori di come si dovevano allenare le squadre di come dovevano allenare i giocatori ma questo librone qui che noi avevamo e che avevamo poi fatto sottoscrivere all'allora amministratore delegato il dottor Gagliani c'era anche Allegri che tanta parte aveva fatto per noi per portare avanti questo progetto poi l'abbiamo messo da parte siamo andati dai nostri allenatori nel settore giovanile dei preparatori atletici da tutte quelle figure che vi raccontavo prima a dire ok è chiaro che noi avevamo ben in mente cosa c'era là dentro ma l'abbiamo costruito insieme con i ragazzi poi siamo andati in campo abbiamo lavorato facevamo momenti di formazione il martedì mattina il mercoledì mattina il venerdì pomeriggio prima dell'allenamento eravamo siamo e il Milan è una squadra professionistica e quindi ha tutti dei professionisti però questo per tornare all'idea di formazione e ahimè questo lockdown ci ha aiutato a scoprire questo mezzo che sono le piattaforme anche per chi è nei dilettanti anche per chi è negli ambienti amatoriali questa può aiutarci per un continuo confronto e per la programmazione di lavoro quindi assolutamente dicevo se noi diamo per poter apprendere dobbiamo dare libertà di espressione agli adulti dobbiamo renderli partecipi è la stessa cosa per i ragazzi quindi dobbiamo renderli partecipi dobbiamo lì non devono parlare certo che possono parlare ma devono esprimere la loro creatività la loro conoscenza e quindi esprimere in campo nel gioco quello che loro quello che loro sanno ovviamente noi non siamo l'allenatore non è lì ad osservare e basta crea deve essere in grado di creare dei contesti di lavoro che siano di stimolo che siano di apprendimento per i nostri ragazzi spero di essere chiaro assolutamente quindi la capacità di creare quegli ambienti che permettono esperienze positive esperienze diciamo positive perché nessuno può sapere quale possa essere quella positiva è fondamentale e la capacità di mettere insieme più competenze da parte dell'adulto che è in campo è anch'essa fondamentale perché tu ci dici che appunto stai dicendo che l'approccio sistemico prevede la possibilità di mettere insieme più conoscenze più competenze esatto e questo mi viene in mente una cosa però mi viene in mente anche proprio tu proprio farla a te come coordinatore dei corsi responsabili dei direttori di giovanile probabilmente deve essere va rivista anche i prerequisiti richiesti per fare per fare poi per poter prendere poi un tesseramento una qualifica federale a questo punto a chi dovrà entrare in campo allora dal mio punto di vista almeno per quanto riguarda il corso per responsabili del settore giovanile la mia idea il mio pensiero io sono solo un advisor come dicevo prima un consulente della federazione mi occupo sono responsabile del corso per responsabili del settore giovanile la mia idea è quella che nei successivi corsi quelli che andremo a fare è che ad esempio una parte una metà adesso sto ipotizzando di coloro che possono partecipare al corso sarà attraverso i soliti requisiti del punteggio in base a determinate il fatto delle partite giocate e bla 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 ma metà di quei corsisti dovranno invece essere scelti secondo dei dei test dei colloqui psicotitudinali perché io sono stato giocatore professionista ma non è detto che un giocatore professionista comunque abbia delle attitudini superiori ad altri che hanno invece fatto un percorso di studi differente soprattutto se consideriamo il fatto che dobbiamo lavorare con i giovani e quindi che trovo sia giusto che le attitudini psicologiche pedagogiche eccetera siano tenute in conto per chi possa accedere a questo tipo di corso assolutamente da questo punto di vista per me è fondamentale non so se ho risposto assolutamente sì era proprio almeno per quello che ti chiedevo io allora ti voglio far bere un bicchiere d'acqua mister ti voglio dare 30 secondi per riposarti per berti un bicchiere d'acqua vediamo un piccolo filmato che poi introdurrà un pochino anche il discorso dell'adulto in campo con i bambini dura anche questo un minuto non di più vai credo che ognuno abbia il suo modo di star bene in questo mondo che c'è intossicato l'anima e devi crederci per coltivare un sogno su questa terra spaventosamente arida io l'ho vista assai la vita degli illusi con le loro dosi di avidità superbia che per combatterli ti giuro basta poco devi interdirli con un po' di gentilezza un alluvione mi ha forgiato nel carattere però il sorriso dei miei mi ha fatto crescere se qualche volta anche hai perso la testa però l'amore mi ha cambiato l'esistenza quante cose fai che ti perdi in un attimo come te ci hai che si cari che si cari che si cari po' 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 pu' è una strada da percorrere ma può succedere che non ci sia un arrivo no e questo era quel filmino che anche io utilizzo solitamente dei video in cui si sente proprio l'allenatore non durante la partita ma durante l'allenamento che guida esattamente i bambini, cosa devono fare cosa non devono fare ed è proprio lì secondo me l'errore che commettiamo quello di veramente al di là non si voglia ricadere sempre nelle soliti frasi fatte quello di che l'allenatore non deve avere il joystick in mano però a volte ci ritroviamo spesso direi anzi in queste situazioni ed è veramente un peccato perché togliamo ogni volta la possibilità ai nostri ragazzi di imparare di apprendere di sbagliare e l'emozione ho letto della Montessori nel nostro pensiero noi siamo convinti che l'emozione fissi l'apprendimento cioè fare le cose con una partecipazione fissa all'apprendimento con una comprensione con una partecipazione emotiva aiuti sicuramente a fissare quel tipo di apprendimento perché se io ripeto se mi metto davanti al muro e comincio a a cacciare la palla contro il muro che tipo di apprendimento ho siamo veramente lontani da quello che è la realtà del gioco eppure si diceva anche noi io ho fatto tanto muro ho fatto la forca io oggi assolutamente non penso che siano che siano passaggi necessari per poter far sì che un bambino che un ragazzo diventi un buon un buon giocatore assolutamente certo infatti il filmato era proprio rivolto a questo tipo di riflessione nel senso che possiamo creare un ambiente che prevede un approccio sistemico ma poi dopo alla fine se noi adulti che siamo in campo non siamo in grado di completare quest'ambiente rimane un ambiente munco perché poi alla fine se comandiamo noi comunque e dirigiamo noi assolutamente quello che dice sempre Edi Zanoli il metodologo con cui ho lavorato e con cui sto lavorando perché anche sia Domenio perché lui che Caterina sono all'interno del corso per responsabili di settore giaunile dobbiamo imparare a perdere il controllo dobbiamo imparare a perdere il controllo e non è facile perché poi tutti noi c'è l'allenatore poi caspita controlla tutto più controllo più le cose vanno bene tutto funziona è un meccanismo perfetto ecco no cioè no se noi vogliamo davvero che i nostri bambini apprendano dobbiamo essere capaci e non è facile non è facile per carità non sto dicendo che sia facile dobbiamo imparare a lasciare un po' andare lasciare un po' andare perché perché dobbiamo farli esprimere farli esprimere Gianluca su questo posso dire una cosa sul fatto comunque sei spento Gianluca hai il microfono chiuso sì scusate no perché volevo disturbare quando parlavano gli altri no dicevo Simone sei qui per questo no per stuzzicare no no ecco io assolutamente no lo sai che noi condividiamo molto il nostro pensiero su come su cui interagire con i bambini no quindi la nostra figura da adulto poi diventa una figura che deve essere da stimolo soprattutto ma io li posso dire a me se non piace il termine istruttore a me piace il termine facilitatore mister non so se ti piace sì ma perché per farle quello che si dice è il pensiero che ci sta dietro quindi uno mi guarda gli istruttori non le facciamo una questione di però ecco quando mi sento istruttore è una cosa mia per carità no no ma è vero l'effetto mi mette l'IKEA che se non fai così non ti monta nulla ed è quanto di più lontano infatti no la parola la parola la parola istruttore poi nasce da quello che poi il primo corso che che fai no quello che c'era famoso nella scuola calcio era istruttore con i FIGC no io parto da quella cosa la parola ma poi la parola non mi convinci non mi convinci no perché poi no perché poi con con gli accessi federali poi tu dai istruttore diventi allenatore se tu vai a leggere se tu vai a leggere nelle norme federali c'è proprio scritto istruttore sì sì è una cosa mia scusate no no ma poi questa cosa conseguenziale è quella proposta che fai voglio dire no è proprio conseguenziale alla tua proposta l'approccio sistemico è normale che non ci debba essere un istruttore insomma come nel concetto che gli diamo nella definizione data però in Inghilterra utilizzano la parola no in Inghilterra utilizzano la parola coach no che esattamente è un termine con il quale si va a identificare diciamo chi accompagna una crescita no è un altro è un altro termine I don't care ok però è la cosa che ammettiamo dai facciamo passare all'istruttore no 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 vabbè ma no vabbè ma questo Gianluca fa parte sempre ritorniamo all'ambiente no dove la cultura la cultura in Italia fare l'allenatore con i piccolini è sbagliato no si dice questo cioè paradossalmente si va sempre a creare questa dice no con i bambini non bisogna fare l'allenatore ma bisogna fare l'educatore il formatore l'istruttore evitiamo la parola allenatore perché poi come hai visto dal video si sente molto parlare si sente poco si vede poco giocare dal punto di vista dei bambini quindi questa è soltanto una una piccola diciamo così premessa per poi però una cosa che io volevo chiedere a a Filippo diciamo al mister è il discorso legato molto alla al fatto del diciamo del porsi delle domande cioè quando è che noi nel momento in cui siamo a contatto con questa con queste attività sul campo con i ragazzi con i bambini il nostro il nostro porci domande deve crearci poi quella diciamo quella continuità nel crescere insieme a creare quell'ambiente diciamo di apprendimento cioè che cosa noi dobbiamo porci come domande come quesiti fondamentali per poter dare un contributo di più alla crescita dei nostri ragazzi Beh bella bella domanda bel quesito indubbiamente io credo che prima di tutto quello che dobbiamo porci rispetto a quello che vediamo tra i nostri ragazzi è che se loro si stiano divertendo o meno io credo che come abbiamo detto prima il fatto di divertirsi sia fondamentale quando un bambino si diverte da tutto se stesso va al massimo diciamo così e quindi la motivazione è fondamentale che poi la motivazione insieme come ti posso dire alla consapevolezza e cercare di spiegare ai nostri ragazzi ai nostri bambini il perché fanno un qualcosa gli facciamo fare un qualcosa e chiaramente poi a un certo punto vogliono anche loro vedere l'efficacia che noi dobbiamo fare capire che l'efficacia non è solo nella vittoria o nella sconfitta ma è nel migliorare una una soluzione di gioco nel sapere risolvere una soluzione di gioco nel sapere magari che so aiutare il compagno quando è in difficoltà nel recuperare una palla insomma stare attento a queste cose qui perché poi nel momento in cui loro realizzano che caspita ma quello che mi ha detto di fare l'allenatore alla fine mi rende efficace mi rende più bravo nella loro testolina automaticamente si rinnova questa motivazione del circolo virtuoso dell'apprendimento anche questo è un'altra modalità è un'altra delle teorie dell'apprendimento così come quella di Vigoschi quindi dobbiamo stare attenti a non far fare delle esercitazioni un po' troppo complicate troppo difficili da risolvere perché poi i nostri bambini si frustrano nel momento che si frustrano si broccano e non c'è più apprendimento allo stesso tempo non dobbiamo fare un'esercitazione che sia troppo semplice perché nel momento che l'esercitazione è troppo semplice non c'è più apprendimento perché poi vanno in loop e questo l'abbiamo visto anche noi nel nostro percorso al Mina a un certo punto facevamo delle esercitazioni in cui i ragazzi la chiamavamo tecnica analitica applicata perché poi anche noi facevamo delle esercitazioni magari di avviamento dove non c'era l'avversario e quindi venivano benissimo poi a un certo punto dopo due mesi le stesse esercitazioni i bambini o i ragazzi la facevano in maniera disastrosa ma perché non c'erano più non avevano non c'era più niente di nuovo era una cosa che non gli portava alcuna difficoltà da superare e quindi non avevano più interesse allora diventavano svogliati e quell'esercitazione lì non veniva più non veniva più bene ecco dove devo stare attento dove devo osservare dove devo intervenire queste sono diciamo due dei pensieri che mi vengono in mente ecco ripeto io non ho le risposte per tutto però rispetto a un certo tipo di percorso fatto delle esperienze fatte è questo che che mi torna alla mente perciò la misura dell'ambiente misurare l'ambiente in maniera giusta per i ragazzi è fondamentale affinché lui faccia delle esperienze positive però mi viene in mente una cosa a questo punto essendo un gioco di squadra non essendo il tennis dove c'è un bambino dall'altra parte ti decide di tirare la palla dobbiamo creare degli ambienti dove un gruppo di bambini si possa trovare tutto insieme in condizioni migliori per poter fare l'apprendimento cioè dove la proposta che noi facciamo non sia né troppo elevata né troppo bassa certo allora io qui devo stare attento a saper suddividere anche i gruppi non è detto che anzi non devo mettere generalmente i più bravi con i più bravi e i meno bravi con i meno bravi ma cercare sempre di stimolare come posso dire lo stare insieme di questi gruppi e quello che è importante poi è creare nei bambini anche qui nei genitori proprio per quel discorso di formazione di creare un clima un clima di apprendimento importante anche questo cioè far capire che poi ai nostri ragazzi non dobbiamo ai nostri bambini non dobbiamo dire caspita poi quello lui mi fa sempre allenare con quello più scarso così io non imparo non imparo più proviamo invece a dire caspita dai ci stai allenando con lui devi aiutarlo a diventare più bravo perché se non altro quando nel momento in cui il tuo compagno diventa più bravo e allora diventa allenante anche per te cioè è questo clima cioè dobbiamo cercare ripeto di cambiare un po' la visione perché poi è certo noi quando poi pensiamo all'uno contro uno pensiamo sempre a tutte questioni individuali individualistiche dove caspita quello bravo è quello che mi supera nell'uno contro uno e via discorrendo però dobbiamo far capire anche quelli che sono bravi nell'uno contro uno che se si trovano nelle condizioni di fare l'uno contro uno capitolo primo sicuramente hanno ricevuto palla da un compagno e quindi devono comunque sono all'interno di un contesto collettivo qualcuno gli ha dato la palla e lui è nelle condizioni di andare nell'uno contro uno secondo è nelle condizioni di giocare l'uno contro uno perché gli altri compagni non sono andati in zona palla perché se gli altri tuoi compagni vengono in zona palla portano gli altri avversari c'è sempre ci sono sempre delle relazioni all'interno dello spazio di gioco che determinano comunque anche quando tu sei nella condizione di uno contro uno l'uno contro uno io non esiste no mister io dico questo esatto io dico quello che dice che non c'è l'uno contro uno è chiaro che è una forzatura la mia però poi il grande Maradona che ci ha da poco lasciato mi piace sempre ripeterlo quando fa quel famoso gol con l'Argentina e lui dice questo alla fine quando fa il gol con l'Argentina che a parte quello del 2-0 che a parte la metà campo e scarta tutta la difesa inglese era l'86 per quelli più giovani ai mondiali di Messico lui nell'intervista dice certo io sono stato bravo caspita gli ho driblato tutti gli avversari ma poi dice se non avessi avuto lì a fianco a me Valdano che in qualche modo mi distraeva i miei avversari che comunque in qualche modo i miei avversari pensavano non sapevano cosa avrei mai fatto io magari quel gol lì non l'avrei fatto lo diceva Maradona che Maradona è considerato il re della risoluzione delle partite delle gare per gestualità individuali capite se lo dice uno come Maradona caspita vuol dire che allora davvero il calcio ha in sé il valore del calcio è nel collettivo poi da sempre sono i grandi giocatori che ritrovano le partite ma se ci pensiamo bene lì dentro in un campo di gioco anche quando siamo nell'uno contro uno ci sono delle relazioni tra le persone tra i compagni di squadra con gli avversari e l'ho detto prima queste cose qui dobbiamo farle presente presenti quando noi accogliamo i nostri bambini con i loro genitori dobbiamo andare in questa direzione cercare di spiegare le cose poi ripeto c'è chi ne farà tesoro c'è chi dirà ma che cavolo sta dicendo Filippo piuttosto che Gianluca piuttosto che Simone però vabbè noi ci abbiamo provato noi abbiamo trovato gli strumenti per far capire quanto sia importante e che io non sto dicendo che non dobbiamo fare l'uno contro uno e attenzione tutt'altro però dobbiamo mettere nelle condizioni i bambini di decidere di capire di comprendere io ho fatto un TED ho avuto la fortuna di essere chiamato a Barletta a fare un TED in cui spiegavo proprio questa cosa qui un percorso che ha fatto un nostro ragazzino un nostro bambino che a un certo punto ha dovuto mollare perché? perché pensava di poter sempre risolvere le situazioni da solo e noi e io mi sento responsabile di questo abbandono perché noi non l'abbiamo aiutato perché l'allenatore si alzava e diceva go break risolvi e lui risolveva poi quando gli altri sono diventati forti si sono organizzati più bravi lui ha dovuto riorganizzare la sua la sua la sua la sua coordinazione no? quella specifica da calciatore ha avuto delle difficoltà non si è ritrovato più ha detto oh adesso nessuno di noi gli aveva fatto comprendere l'importanza del compagno e quindi lui non si trovava lui per lui il compagno non esisteva risolveva sempre le cose da solo e adesso che non ce la faceva più caspita provate a pensare cosa accade a un bambino perché poi era un ragazzino era cresciuto ma era ancora un ragazzino che si trova ad un tratto senza le sue certezze cioè noi dobbiamo stare attenti anche a queste cose qui perché poi quando il ragazzino che dribbla che è bravo che arriva siamo lì tutti a decantarne le qualità però dobbiamo stare attenti dobbiamo avere questa secondo me attenzione al percorso e oggi in Italia facciamo fatica ancora a comprendere l'importanza del percorso pensiamo che sia importante lo scouting la selezione che per carità sono importanti e che quello che c'è in mezzo conti poco c'è l'esito quindi se abbiamo fatto bene lo scouting il giocatore arriva se non arriva è perché non era poi così bravo si è perso eccetera e non consideriamo invece tutte quelle quelle persone come dicevamo prima che lui incontra quegli incontri che fa che sono fondamentali per la sua crescita e perché il suo talento si educhi cioè venga fuori per tutta la sua potenzialità certo parlato troppo no no non hai parlato troppo assolutamente siamo purtroppo purtroppo dico io siamo in chiusura perché vorremmo stare ancora tanto insieme però io volevo intanto chiederti una cosa noi siamo un po' un popolo di modaioli no che andiamo appresso alle mode una volta c'era c'era il Brasile poi c'era la Francia poi c'era la Spagna poi c'era la Germania finalmente mi sembra se non mi sbaglio la federazione sta cercando di delineare dei confini italiani di una proposta metodologica che abbia dei confini italiani però mi piace tornare un attimo un pochettino ancora un po' più indietro c'è qualcosa del calcio italiano che tu da calciatore professionista ti senti di dire non dobbiamo perdere assolutamente perché una nostra caratteristica non dobbiamo perdere la nostra caratteristica per seguire per forza il progresso diciamo così ma io credo che degli italiani del caccio italiano ma del popolo italiano della capacità italiana dobbiamo dobbiamo continuare a tenerci questa capacità di come ti posso dire di di no di modellarci però di adeguarci alle situazioni difficili di reagire ai momenti di difficoltà che poi alla fine è il calcio io a volte anche adesso è uscita questa questa polemica questa querela chiamiamola sulla costruzione da dietro qualcuno ha chiamato a distruzione anche nei giornali più importanti ed è sbagliato cioè perché anche qui vuol dire tornare indietro nel tema il calcio sta andando in una direzione ma perché vogliamo a tutti i costi pensare cioè non si dice che con la costruzione da dietro si vinca per forza ma non è neanche come posso dire intellettualmente corretto non c'è onestà onestà intellettuale chi dice che oggi adesso costruendo è diventata una moda e quindi si sbaglia Alison ha fatto due errori io scusate se faccio andate a leggervi un articolo di Fabio Barcellona sull'ultimo uomo in cui spiega esattamente e io sposo in pieno la sua tesi rispetto a questo discorso della costruzione da dietro che cosa vuol dire io tra l'altro noi al Minan abbiamo cominciato nel lontano 2012 con i ragazzini a costruire da dietro ma non per vezzo non per per moda perché allora non lo poteva nessuno ma perché mette i giocatori nelle condizioni di fare delle scelte di aver coraggio e questi sono momenti di crescita questo li mette nelle condizioni di comprendere come come si sviluppa il gioco e come affrontare il gioco e gli aiuta nella fase di possesso perché parliamo di fase di possesso ma certamente anche quel tipo di giocatore lì poi è in grado è più bravo anche ad affrontare le situazioni e a leggere i tempi e gli spazi anche nelle situazioni di non possesso perciò un modo per creargli una mentalità una mentalità diversa una mentalità di sapere affrontare perché poi nel momento in cui crescendo tu trovi un allenatore che ti chiede di andare a giocare sulla palla lunga ed attaccare la seconda palla che per calità poi nelle prime squadre ci sta nel momento in cui che quel gioco lì che la modalità di gioco lì è più formativa di quella di un gioco di possesso di quella di un gioco propositivo di quella di un gioco basato sull'idea di avere la palla quando mi convinceranno che sarà così non è detto che 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 il mio pensiero cambi però mi dovranno convincere e io credo che a meno anche con i ragazzi le interviste che abbiamo fatto nei ragazzi che poi sono usciti dal settore giovanile hanno fatto le loro esperienze cioè passare a un calcio più diretto più verticale è un attimo è l'aspetto contrario cioè se tu hai giocato sempre un calcio diretto andare a giocare in un calcio posizionale un calcio di costruzione un calcio dove devi prendere delle scelte continuamente eh e allora lì si che si trovano in difficoltà Gianlu posso dire una cosa a Filippo allora scusami un attimo una cosa soltanto perché io le domande non le posso far girare perché non so perché ma non mi arrivano firmate non mi piace mettere domande firmate vorrei soltanto rispondere io a una persona che parlava del fatto che tu parlassi del settore giovanile del Mila che la tua proposta fosse rivolta a un settore giovanile professionistico invece volevo chiarire che anche prima hai hai sottolineato il fatto che queste esperienze le hai fatte anche nel dilettantismo con società no no ma infatti stavo dicendo questo allora prima di implementare questa modalità di lavoro l'abbiamo fatto presso le nostre scuole calcio noi avevamo 105 110 allora scuole calcio siamo andati dalla Sicilia fino su al Trentino siamo andati nelle nostre scuole calcio portando questa idea e chi l'ha abbracciata i risultati migliori in termini di crescita dei giocatori sono stati quelli in cui gli allenatori hanno abbracciato questa idea di cambiamento non dove c'erano le strutture dove c'erano i cambiamenti belli eccetera è solo una questione di tempo ma credetemi a me non c'è non mi interessa certo no ma lo volevo lo volevo chiarire proprio per questo sì sì tu l'avevi specificato prima e mi sembrava giusto insomma diciamo l'informazione che stai dando è valida per tutti soprattutto direi anche per le società dilettantistiche dopo poi sappiamo che c'è il bacino più grande in questi anni siamo andati anche a lavorare in contesti dilettantistici e il pensiero è quello ma veramente se poi li mettiamo quei bambini lì che noi diciamo ma come è scarso se noi mettiamo quei bambini lì gli diamo il tempo li aspettiamo li sosteniamo li accompagniamo se è il caso li togliamo un attimo da una situazione complessa ma giusto quell'attimo la rimettiamo dentro dandogli fiducia dandogli una pacca sulla spalla gli diamo tempo anche quei ragazzi più scarsi quei bambini più scarsi vedrete che avranno un miglioramento straordinario se dovete essere dobbiamo essere primi noi a crederci poi io questo è il mio pensiero deriva dalle mie esperienze non vuole essere assolutamente il Vangelo o qualcosa che per carità però davvero è quello che noi insieme a tante persone abbiamo vissuto e continuiamo a vivere non è Vangelo però è esperienza vissuta è vita vissuta quindi voglio dire comunque la si può la si può proporre la si può girare dopo di che ognuno come dici tu farà la sua idea io ci credo ma anche adesso con il mio gruppo di confronto perché ormai uno lavora in ambiti diversi ma ci troviamo ci confronta ci troviamo adesso purtroppo con queste un po' di meno le piattaforme però ci confrontiamo e si lavora anche nei dilettanti e si ottengono risultati io uno dei miei collaboratori è andato a lavorare per ha fatto dei mesi già l'anno scorso in una squadra di eccellenza che ha sempre giocato un calcio diretto e se tu vedevi quella squadra dopo due mesi e mezzo giocatori che non avevano mai che non avevano fatto quindi tutto il percorso è solo una questione di mettere nelle condizioni e i bambini io ho visto squadre anche di Lega Pro nel Piemonte quindi almeno la terza perché poi ci sono Juve e Torino forse i primi due per ciascuna squadra li prendono loro quindi facciamo la quinta scelta e ci sono settori giovanili faccio anche il nome l'Alessandra lavorano in un certo modo e lì si vede che se tu dai un'impronta e vai in quella direzione dai una mano ai bambini poi per carità io non voglio mi piacerebbe convincere però assolutamente io ho fatto un pensiero che è quello dato dall'esperienza che ho vissuto certo allora lasciamo la chiusura a Simone con quella che voleva fare in internet una richiesta finale io volevo soltanto dire una cosa allora io ho avuto la fortuna ma veramente una grande fortuna di aver viaggiato molto in Europa e di aver fatto tantissime esperienze anche di camp estivi tra i quali ho avuto anche la fortuna di collaborare con il Mila Junior Camp in Europa ai tempi di Ibrahimo in Cisvezia sono riuscito insomma a fare tante settimane ma tante ore di campo con i bambini quindi la fortuna di andare a studiare il calcio estero ma soprattutto anche il calcio italiano perché noi non dimentichiamo che in Italia l'Empoli il Torino il Milan l'Inter insomma ci sono delle scuole il Tassuolo il Cesena anche c'è stato un periodo in cui il Cesena anche aveva una ottima scuola di formazione e quindi io diciamo che mi è sempre piaciuto proprio e andare soprattutto a studiare i grandi maestri la fortuna poi nasce nel momento in cui quando vai in questi posti io sono sempre rimasto colpito di una cosa che le attività che venivano svolte sul campo erano di una semplici cioè non erano io non mi trovavo mai a studiare un calcio molto molto complicato dal punto di vista dello svolgimento delle attività molto gioco molto gioco molta partita molta situazionale e io ti faccio una domanda è proprio nella semplicità che noi ritroviamo la complessità e soprattutto stimoliamo la creatività esattamente così cioè noi dobbiamo stare nella complessità proprio per aiutare non per complicare non vogliamo stare nella complessità non vuol dire complicare tutt'altro è lì dentro che possiamo trovare le soluzioni che possiamo dare ai nostri ragazzi ai nostri bambini la possibilità solo se la vivono solo se sono dentro lì riescono a risolvere e dobbiamo le situazioni e dobbiamo essere in grado di sostenerli con grande pazienza con continui con una grande attenzione con una cura e poi appunto come dicevamo prima mettendo in atto dei setting come dicono gli bravi di apprendimento adatti adatti ai bambini al loro livello eccetera magari la butto là cosa no magari la butto là con tre bottiglie di plastica e Gianluca sa di che cosa parlo stiamo divertendo magari anche con tre bottiglie di plastica e far cacciare un bambino e vedere quello che succede io mi sto divertendo mi fanno la porta ma non ma non troppi coni e cinesini è perché no no le bottiglie no no ti spiego io perché quando quando avevo Arrigo Sacchi mi diceva Filippino tu fisicamente sei un po' così devi venire mezz'ora prima a fare un po' di palestra allora io andavo a fare mezz'ora di palestra prima dell'allenamento poi dice anche tecnicamente devi fare bisogno e quindi andavo mezz'ora quindi un'ora prima a fare l'allenamento allora avevamo un gruppo di lavoro particolare e allora io a certo punto vado con tutti questi cinesini in dribbling in boom bam e facevamo le gare no allora c'erano Donadoni Marco Simone e io a volte a fare questi slalom qui o slalom paralleli oppure ci prendevamo il tempo a volte arrivavo alla pari di Donadoni o di Marco Simone e ogni tanto una volta ogni tre settimane li battevo se io fossi avessero messo a San Siro a dover dribblare ti facevano fare l'esterno alto questo per dire no poi il transfer è un conto fare quelle cose lì è un conto quando hai davanti il giocatore vero l'avversario vero poi qui c'è tutto il discorso della psicologia sociologica c'è il discorso delle neuroscienze eccetera eccetera è come quando uso il muretto o il muro o la la panca rovesciata per fare l'uno o due e no caspita lì manca un pezzo manca un pezzo perché sia io che passo non so dove gliela sto passando su che piede gliela sto passando no è un pezzo di legno è sempre una stupidaggine ma perché non devo mettergli un altro bambino anziché qualcosa d'altro e quel bambino fa un tocco in più se gli tolgo dieci tocchi ad allenamento boh fa due o tre allenamenti sono trenta alla settimana sono centoventi al mese quanti sono per dieci sono mille sono milleduecento in un anno mille 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 quaranta per dieci anni non ha fatto due controlli o due passaggi quanti in meno ne ha fatti vabbè mi sono perso un po' quella rinmetica a quest'ora fa sticare ma sono forte è così è così condivido condivido è così mistero io siamo purtroppo arrivati alla fine e ti ringrazio con me penso tutti quelli che ci hanno ascoltato in maniera veramente tanto non aver potuto interagire magari un'altra volta eh guarda io ho il problema che non capisco perché ma con questa piattaforma non mi firma le domande e mi sembra inopportuno mandarle mandarle a famo un'altra volta a famo un'altra volta a famo un'altra volta guarda dunque magari un'altra volta puoi essere disprimi ci fa solo che piacere sicuramente volentieri hai in programma hai in programma di tornare a Roma a fare qualche altro incontro guarda oggi ho accompagnato la stazione il mio suocero il papà della mia compagna che lui a casa a Roma è venuto giù e avrevo voglia di salire sul treno anch'io non lo so dal punto di vista lavorativo adesso è ancora tutto un po' in stand by anche gli esami del corso per responsabile di settore giovanile il primo 2 marzo saranno ahimè online però speriamo tutti quanti che sto covid venga finalmente in qualche modo in un modo o nell'altro spazzato via prima o poi dovremmo uscire fuori se no veramente diventa pesante incomincia ad essere molto pesante perciò ti ringrazio tantissimo di essere stato qua con noi ringrazio Simone che mi ha fatto da spalla una spalla molto presente e importante grande piacere e a questo punto auguriamo grande gioco e bel gioco a tutti assolutamente buon divertimento a tutti grazie potrebbe essere questa grazie e buon lavoro mandiamo la sera grazie Simone grazie Gianluca grazie grazie a tutti coloro che erano in ascolto grazie a tutti ciao a tutti ho visto un posto che mi piace si chiama mondo ci cammino lo respiro la mia vita è sempre intorno ma questo è il posto che mi piace si chiama mondo ciao ciao ecco